Ieri a Taranto si è tenuto il Vestas Day, otto ore di sciopero su ogni turno e manifestazione unitaria dei lavoratori delle tre sedi Vestas di Taranto, dopo l'annuncio da parte dell'azienda danese della chiusura dello stabilimento Nacelles, con il contestuale licenziamento di 127 dipendenti. Dal piazzale antistante l'arsenale della Marina Militare è un corteo a cui hanno partecipato alcune centinaia di persone, compresi i lavoratori di altre aziende, esponenti politici e del mondo dell'associazionismo, si è diretto verso Palazzo di Governo. In testa al corteo alcuni bambini con uno striscione. Quest'anno a Babbo Natale chiederò lavoro per i nostri genitori. La manifestazione Vestas Day, organizzata da FIM, FIOM e Wilm, si è conclusa con l'assemblea dei lavoratori di tutto il gruppo per fare il punto della situazione. Oltre a Vestas Nacelles, che produce turbine eoliche, a Taranto ci sono altri due stabilimenti dell'azienda danese, Vestas Blades, che realizza le pale eoliche, e Vestas Italia, che si occupa di commercializzazione per un totale di 750 dipendenti. L'assessore regionale al lavoro, Leo Caroli, ha dichiarato che la regione è disponibile a mettere a disposizione di Vestas un milione di euro per fare la formazione dei lavoratori in azienda e di essere pronta anche a sostenere un investimento perché macchine nuove giungano a Taranto per produrre turbine V112 al posto delle V90 considerate ormai obsolete. Il sindaco di Taranto, Ezio Stefano, ha minacciato invece lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale in seguito alle sue dimissioni per protesta, se il Governo non sosterrà il Comune in questa e nelle altre vertenze che riguardano le aziende in crisi del territorio ionico.